In fondo il giocatore greco, anche lui sotto osservazione, uno di quei giocatori di Milano che sta deludendo in questo avvio dall'altra parte del campo, la tripla di Kiki Clark. Eccolo inquadrato, il giocatore che domenica scorsa contro Casale tra l'altro fu determinante nell'overfield. La palla gira velocemente, aveva soltanto 4 secondi per cercare la conclusione. Milano la sbaglia completamente. Borossi, questa volta il tentativo di passaggio di Clark è sbagliato ma c'è il regalo della difesa dell'Olimpia e Kiki Clark dopo aver chiuso il... Quest'azione di attacco della Reier è stata condizionata alla difesa di Milano che ha impedito a Clark di prendere l'apertura. E proprio Kiki Clark è in contropiede, riesce anche a evitare la tentativa di stoppata di Omar Kuk.